Buonasera, Cepaset è fiera di presentare un nuovo talent show, signore e signori, conoscenti di Filippo De Marii. Ecco a voi i primi due concorrenti, Gino e Gianni. Buonasera, ma noi non ci siamo conosciuti una volta, mi sa che era da Mario, no, non mi sembra proprio, ah ecco, era alla Dispoli, alla Dispoli da Enzo, sì, ora mi ricordo, guarda, a me è proprio, già non mi piace il mare, poi la Dispoli proprio non, proprio no, no, ah ma tu ecco stavi nella sezione C del liceo classico al Terenzio, al Terenzio mi ricordo, vero, sì, guarda io ho fatto ragioneria per cui proprio non mi sembra proprio, deve essere stato forse quella volta, dove era, quella rimpatriata che avevamo fatto, non so se ti ricordi, guarda io proprio le rimpatriate le odio proprio, per cui sicuramente non ero io, vabbè allora vaffanculo, no, ma facci te affanculo, no, tu, no, tu, tu, buonasera.